Le relazioni dei nostri ospiti, dei nostri consumatori sono state molto, molto confortanti. Leggendo quello che è la reazione del mercato in questi giorni, proprio nell'imminenza di questa tragedia, le prenotazioni sono rimaste assolutamente con il trend che avevano prima e quindi non abbiamo subito contraccolpi così come tanti avevano previsto. Quindi questa è un'ottima notizia, una notizia che ci conforta prima di tutto perché evidentemente l'alto livello di sicurezza di queste navi è capito dal pubblico che le frequenta. Il pubblico ha capito che questo è un evento isolato, straordinario, molto particolare, sul quale comunque indagheremo a fondo e dal quale certamente avremo qualcosa da imparare. E, le ripeto, da un punto di vista di attività, l'attività continua con un'industria che sarà a un livello ancora più elevato di quello che aveva prima. Secondo lei cambierà qualcosa a livello ad esempio di rotte, di vicinanza alle coste, ma anche ad esempio a livello di sicurezza si parla e l'inchiesta dovrà ovviamente fare luce di tante persone sul ponte di comando al momento dell'impatto. Secondo lei dovrà cambiare qualcosa da questo punto di vista? Ma guardi, io credo che le regole che abbiamo sono assolutamente adeguate. Poi inevitabilmente questa industria, ma lo fa anche autonomamente senza il bisogno di legislatori o regole o regolamenti, è certamente molto impegnata nel continuo miglioramento dei propri sistemi, in particolare dei sistemi di sicurezza, intesa come sicurezza di questo tipo, sicurezza della navigazione, sicurezza antiterrorismo, qualità del prodotto e tutte queste cose. Quindi il mondo, diciamo così, degli imprenditori di questo settore ha sempre molto investito in questo, lo farà e sicuramente se ci saranno delle necessità di modificare il sistema, queste iniziative saranno già intraprese autonomamente dagli armatori. Secondo lei sarà necessario anche ripensare al cosiddetto gigantismo che avrà portato le crociere a diventare un prodotto fruibile a tutti, ripensare al fatto che magari è più difficile salvare 4.000-4.500 persone piuttosto che la vecchia Love Boat che ne portava non più di 500? Ma guardi, non solo per mia opinione personale, che non è questa la sede per riferirla, ma anche perché abbiamo sentito personaggi del livello di cui l'ho appena accennato ieri, proprio a commentare su questo argomento. Le navi più grosse non hanno certamente nulla da temere in termini di sicurezza, in qualunque senso rispetto alle navi più piccole. Anche perché, al di là del fatto che sono più grosse, comunque quando lei va a vedere, nella media statisticamente hanno spazi più ampi per persona che trasportano. Questi sistemi sono sistemi modulari, quindi la nave più piccola ha meno moduli perché ha meno persone, la nave più grossa ha più moduli perché ha più persone. Quindi le norme che si applicano sono tutte norme che fanno riferimento a un certo numero di persone che deve passare attraverso un corridoio, una porta o una sfuggita. E sono stesse norme che si applicano alla nave piccola e alla nave grossa. Quindi relativamente a una zona della nave i problemi non sono diversi, anzi forse sono un po' più, le navi più grosse sono intrinsecamente più sicure per la dimensione, così come un'automobile più grossa è più sicura perché per tutto quello che gli arriva dall'esterno è ovviamente meglio attrezzata. E dal punto di vista invece delle vie di sfuggita, di come può essere abbandonata, eccetera, le ripeto, è un sistema modulare, quindi non vedo assolutamente la differenza, ma al di là del fatto che lo dico io, lo dicono esperti di fama mondiale che sono stati anche, che hanno posizioni di controllo e di preparazione, verifica e applicazione delle leggi.